Io oggi vorrei ripartire da un nostro format che abbiamo lanciato in settimana a Tribuna Juve nella quale io e il direttore di Juventus News Marco Baridon ci siamo interrogati su Juventus Lazio prima naturalmente del match e io avevo sostenuto una tesi piuttosto forte che dipendeva dal mio umore il fatto che questa partita mi creasse uno stato di ansia diciamo così perché perché c'erano naturalmente dei problemi di organico e tra l'altro col passare delle ore semmai la situazione andava quasi aggravandosi perché avevamo avuto poi la notizia proprio dell'ultimo minuto nella quale Fagioli aveva dei problemi in realtà si sono risolte infatti lui poi è anche riuscito a entrare nella ripresa e tra l'altro l'ha fatto anche molto bene dando impulso all'assedio finale della Juve c'era il fatto che la Juve avesse avuto dei limiti molto forti fino adesso in casa in campionato perché c'era stati 2-0-0 contro squadre del livello della Lazio per così dire comunque big Roma e Napoli ed eravamo reduci prima della pausa dall'1-1 col Cagliari nel quale certamente avevamo avuto dei grandi rimpianti ma in cui avevamo capito che sostanzialmente l'effetto stadium non lo stavamo vivendo e per una squadra che vuole puntare in alto naturalmente gli incontri casalinghi devono necessariamente essere vincenti beh la partita poi ha rivelato che in realtà l'ansia era giustificata perché l'abbiamo vissuta di fatto con una grande ansia visto che l'abbiamo risolta solamente a 5 minuti dal termine e per un'autorete io credo che per andare a analizzare questa gara il cui significato naturalmente andrà capito poi magari successivamente quel che è certo che comunque erano tre punti assolutamente da fare e che peseranno e che forse dicono anche una cosa nuova cioè che rispetto ai risultati coerenti delle volte precedenti in cui se si giocava bene si vinceva tra zero se si giocava peggio si pareggiava questa volta abbiamo giocato bene ma non benissimo diciamo così abbiamo avuto anche dei momenti di grande difficoltà e siamo arrivati a un risultato che forse ad un certo momento non speravamo più io non dico che non meritassimo di vincere ma che certamente abbiamo fatto una grande fatica questo è stato molto chiaro volevo ripartire da alcuni appunti che mi sono preso durante la gara per cercare di capire meglio a che livello è oggi il gioco di Tiago Motta e la Juve attuale per rispondere a una domanda questa ce la siamo fatta invece ieri sera nel nostro programma ma che partita hai visto cioè io mi sono chiesto la Juve ha un livello tecnico sufficiente per rendere le idee di Motta praticabili nella vittoria naturalmente perché si può giocare come vuole un allenatore senza ottenere risultati ma noi invece abbiamo un'altra ambizione è quella che attraverso il gioco di Tiago Motta riusciamo a crescere e ad arrivare dei risultati allora perché mi sono chiesto questo? perché vedete la Juve di Tiago Motta non è una squadra che nel momento in cui si crea la superiorità numerica diventa feroce, diventa più funzionante, approfitta della situazione certo mancavano una serie di giocatori, mancavano quei giocatori che meglio superano l'uomo come Conseil Sao o come Nico González oppure quelli che riescono comunque a denunciare i problemi tattici degli avversari come con Miners, però fatto salvo che questa era la situazione la Juve nel corso del primo tempo, in quei 20 minuti che ha avuto di superiorità numerica non ha fatto la differenza, non ha cambiato modo di giocare non ha approfittato diciamo dello scivolone dell'avversario per cercare di dargli il colpo definitivo perché questo forse non è effettivamente né la capacità attuale della Juve né forse lo spirito della Juve di Tiago Motta lo vorrei andare a sottolineare in due azioni nel primo tempo la prima è il calcio d'inizio noi teniamo palla per 90 secondi praticamente nella nostra metà campo cioè cerchiamo di far uscire fuori a Lazio non ci riusciamo, Calullo sbaglia un passaggio e poi va a rimediare e nasce un calcio d'angolo della Lazio ma si percepisce da lì che la Juve vuole giocare secondo certi principi tenendo il pallone tra i piedi, con certi movimenti anche con una formazione completamente diversa dalle altre cioè non è che l'emergenza dell'undici titolare ha portato a una modifica della concezione del gioco di Tiago Motta questo secondo me è molto importante però contemporaneamente questo gioco può essere anche noioso può non avere dei cambi di ritmo può non riuscire a creare delle spallate può, come succede ad esempio al sesto minuto quando facciamo una bellissima azione e Turama riesce ad arrivare fin sul fondo area e mette il pallone in centro può non funzionare fino in fondo pur creandone le premesse ma poi l'aspetto più eclatante della partita quello che secondo me poi giustifica il nostro successo non è nell'assedio finale che comunque c'è stato e su questo poi magari diciamo qualcosa non è quel periodo del secondo tempo nel quale andiamo veramente molto vicino al gol perché nel giro di tre minuti colpisce la traversa Dusan Vlaovic e non riesce a segnare di testa Douglas Luiz su un pallone perfettamente calibrato quindi se erano create le premesse per arrivare al gol sblocca il risultato l'azione che più individua che cos'è la Juve di Tiago Motta è proprio quella dell'espulsione che poi alla fine in qualche maniera ha pesato quanto meno nell'ambito della dinamica dell'inerzia della gara non va trascurato il fatto che l'uomo che viene atterrato dal centrale difensivo della Lazio cioè da Romagnoli è il nostro difensore centrale cioè non è l'attaccante non è un lancio non è un centrocampista che si inserisce non è un numero di Ildiz che crea i presupposti per arrivare davanti al portiere è una combinazione di quelle che abbiamo già visto nel corso di questa stagione da parte di Tiago Motta nella quale il difensore centrale tra l'altro nuovo acquisto è estremamente coraggioso estremamente dinamico molto bravo a inserirsi determina l'espulsione lì c'è quello che abbiamo definito il mottismo c'è la capacità dell'allenatore di avere in tempi brevi creato delle nuove modalità di gioco certo, la Juve ha bisogno di altro questo è evidente ed è qui il senso della domanda che vi ponevo all'inizio c'è quell'altro di cui c'è bisogno c'è quella capacità di essere realmente funzionanti la diciamo in maniera più semplice quella capacità di segnare la Juve segna troppo poco in Italia abbiamo una media non da squadra da vertice laddove invece abbiamo una media da squadra mito in difesa un solo gol preso in otto giornate peraltro neanche su azione su un rigore che abbiamo in qualche maniera regalato noi con un intervento improvvido da parte di Douglas Luiz contro i Cagliari ma la Juve è in grado tecnicamente di fare tanti gol perché si parla sempre di Vlaovic Vlaovic ieri ha fatto una discreta partita ha partecipato all'espulsione e lui appunto a fare la sponda per Calulo ha partecipato all'autogol perché è lui a dare il pallone per il cross di Cabal ha colpito una traversa con un tiro di destro con grande prontezza ha partecipato non troppo al gioco però questo non dipende neanche troppo da lui perché lui comunque doveva cercare di fare il punto di riferimento in area di rigore ma il resto della squadra riesce a creare i presupposti per fare il gol allora io credo che se Tiago Motta deve imparare qualcosa da questa partita modesto consiglio è proprio nella capacità che noi abbiamo avuto nel finale di cambiare un po' i ritmi forzatamente perché il cronometro correva dovevamo assolutamente segnare l'inserimento di fagioli le sue verticalizzazioni la sua capacità di dare più continuità all'azione Danilo messo sul centro-sinistra è stata un'ottima scelta perché ha sveltito decisamente la manovra visto che lui ha proprietà tecnica e ecco poi altri cambi ci sono stati questo ci deve far capire che la Juve ogni tanto deve andare oltre lo spartito deve mettere qualcosa in campo che vada oltre la capacità di fare i movimenti giusti che per intenderci sono perfettamente rappresentati da quello che fa Cambiaso Cambiaso gioca a destra a sinistra ha messo un pallone nel primo tempo a Gatti che non è riuscito a deviarlo verso la porta assolutamente splendido è un giocatore che ti dà la sensazione che anche quando è un po' stanco come era ieri dal resto lo ha giocato molto in nazionale quando magari non è non è perfettamente a suo agio nella posizione iniziale visto che ha giocato più in avanti rispetto al solito comunque offre un'interpretazione forte della gara originale la cambia nel corso dell'incontro ecco io penso che la Juve debba avere anche questa capacità cioè essere meno l'Accademia degli Studi di Tiago Motta che funziona perché appunto determina dei fatti l'espulsione ma deve metterci non voglio dire il cuore deve metterci qualcosa di più in termini di movimenti e capacità da tre quarti in su non abbiamo ancora visto tanti gol da schema abbiamo visto qualche gol da recupero alto soprattutto nella prima parte del torneo dobbiamo secondo me rispondere a questo tema trovando la giusta posizione di Ildiz perché Ildiz lo stiamo confinando un po' troppo a sinistra fa sempre più o meno le stesse finte sta facendo fatica a incidere e c'è il rischio che un giocatore come lui molto giovane con una grande responsabilità sulle spalle con enormi aspettative dettate anche dal talento che ci ha già mostrato non solo a quello che noi pensiamo che sia ma da quello che per intende ci abbiamo visto col PSV Endoven sia appunto un elemento che poi vada a deprimersi o a come dire intorcinarsi nelle incerte idee in certe inconcludenze io credo che invece debba assolutamente lavorare Tiago Motta affinché Ildiz e con Miners quando sarà in campo offrano una sponda anche dal punto di vista della realizzazione a Vlaovic non possiamo pensare di fare tutta la stagione nella quale se non segna Vlaovic dobbiamo sperare nel caso o in un'azione con un certo tasso di fortuna come quella di ieri sera però però è molto importante aver vinto in una serata nella quale si è riattaccata la spina dopo la pausa della nazionale e attenzione la pausa della nazionale fa male alle grandi e soprattutto dopo tutti quei pareggi che potevano veramente farci correre il rischio di pensare male al gioco di Tiago Motta e invece dobbiamo io credo mettere l'accento appunto su come il gioco di Tiago Motta sia riuscito al venticinquesimo minuto a determinare una situazione quasi impossibile da immaginare e poi su come siamo riusciti comunque a portare a casa i tre punti Stoccarda e Inter saranno già impegni molto seri per verificare se la Juve di sabato possa bastare per ottenere i risultati o se ci vorrà qualcosa di più anche in termini magari di nuovi ingressi di giocatori che non erano presenti ieri sera se vi è piaciuto questo video mettete un like lasciate i vostri commenti risponderemo la prossima volta e io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione iscrivetevi al nostro canale YouTube www.youtube.com